E' come si trattavano gli stranieri all'inizio del Novecento, che era una cosa assurda che ci fossero degli stranieri. Come cazzo bisogna sentirsi quando ti dicono che ti arrivano le bombe addosso? Sbagliavo tantissimo pensando che per me sarebbe stato più facile. Ti ritrovi di fronte a qualcosa che è decisamente più grande di te. Grazie. 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 Grazie.